Quattro sold out su quattro serate per la quarta stagione di Rassegnati. La Cioppi Group Events ha fatto il pienone anche stavolta. Le poltrone della Sala San Francesco erano tutte occupate per vedere la compagnia colata lavica, che ha portato in scena l'altra parte di me. I ragazzi catanesi, impegnati in questo periodo con altri spettacoli, hanno egregiamente sostituito Pippo Pattavina, che aveva annullato lo spettacolo Lavaro per motivi di salute. Hanno subito risposto positivamente alla chiamata di Giuseppe Cioppino Crapanzano, che ha chiesto loro, con pochissimo preavviso, di sostituire l'attore. In meno di due settimane hanno rispolverato il copione della commedia che hanno portato in scena sabato 25 gennaio, riuscendo a tenere sul palco ottimi ritmi e tempi teatrali. Il pubblico di Favara, che già conosceva gli attori, li aveva visti l'anno scorso assieme a Pippo Franco, li ha applauditi come bene meritavano. L'altra parte di me è ambientato ai giorni d'oggi. È una commedia scritta da Antonio Zappalà, in arte zeta. Ha toccato diversi temi, come il denaro, il lavoro, le banche, i vizi, il lusso, la povertà, le bugie, le classi sociali e la voglia di famiglia. Tutto in un mix brillante che a tratti ha fatto anche riflettere. Bravi gli attori in scena, applauditissimi, Michel Anello, Antonio Zappalà e Lilia Romeo, protagonisti della storia. Il pubblico di Favara ha risposto benissimo. E poi è una commedia che avete rispolverato in pochissimi giorni. Sì, diciamo che è stata una cosa molto veloce, perché non potevamo non venire a Favara. L'invito del nostro caro amico Cioppino ci ha veramente inorgoglito. Come disse anche il maestro, l'anno scorso siamo venuti con Pippo Franco, è rimasto veramente molto sorpreso dal pubblico favarese, perché è un pubblico veramente attento, un pubblico che segue, che ti fa sentire veramente attore. Questa è una cosa bella. Io sono molto felice questa sera. Veramente ringrazio il grande Cioppi, che ci ha voluto onorare anche quest'anno della nostra presenza. Speriamo di poter ritornare, perché per noi è sempre un piacere. La mia impressione, cioè me la porto dietro dall'anno scorso, ma non è una cosa detta tanto per dire. Cioppi lo sa, noi lo diciamo sempre. L'anno scorso insieme a Pippo Franco siamo approdati in questo teatro. Anche lui da fuori, perché lui è anche un po' sensitivo, ha detto che questo teatro ha un'energia paurosa ed è bellissimo entrare qua dentro. Sin dal primo passo che ti porta sul palco senti un'energia incredibile. Diciamo che l'emozione che provo ogni volta che sono qui a favore è come se fossi io, non so, al Teatro Tenda di Roma, cioè quei grandi pubblici. Infatti prima di entrare tremo, anche se sono un cosiddetto animale da palcoscenico, però prima di entrare sul palco tremo. Quella è una cosa positiva. Certo. Quando si trema prima di andare in scena è proprio... Ma infatti dissi una volta a mia figlia che io smetterò di fare teatro quando smetterò di avere questa sensazione. Cioppi, quattro sold out su quattro spettacoli. Ormai penso che Favara sia abituata al sold out. Che dire, sono veramente onorato di quello che sta succedendo, come dicevo poco fa. Ormai la gente viene a teatro, la gente ha fiducia alla Joppy Group, ha fiducia, ama il teatro, perché altrimenti non sarebbe così. Riempire un teatro oggi è difficilissimo. Di questo veramente possiamo essere orgogliosi di riempire ogni spettacolo sold out. Sono 43 sold out, targati Joppy Group, targati Rassegnati, su 45 spettacoli. Grandi voi, grandi tutti, grande... Il teatro, viva il teatro! Viva il teatro! Viva il teatro!